Il nuovo scenario rossazzurro pian piano si va delineando, il Catania va avanti e inizia a capire quale potrebbe essere il suo futuro, o meglio il suo prossimo campionato. Retrocessione in Lega Pro con robusta penalizzazione per il club rossazzurro, squalifica di almeno 5 anni all'ex presidente Nino Pulvirenti. Sono le sanzioni che la Procura federale dovrebbe presentare domani in avvio del processo al club siciliano e agli altri tesserati coinvolti, Cosentino, Di Luzio e Arbotti, nelle presunte combine con sei partite dell'ultimo campionato di B considerate comprate dalla Procura di Catania, titolare dell'inchiesta I treni del gol. Sarà Stefano Palazzi a proporle ai giudici del Tribunale FIGICI di primo grado e se arriverà il semaforo verde della Corte, le decisioni diventeranno esecutive e definitive. Uno sconto grazie all'articolo 24 che prevede in caso di ammissione delle responsabilità e di collaborazione fattiva la riduzione delle sanzioni. E intanto questa sera il Catania esordirà in Coppa Italia al Massimino contro la SPAL. Baiocco ha lasciato i rossazzuri per incomprensioni con l'allenatore Pippo Pancaro. Fischio d'inizio alle 20.30. Arbitrerà Saia di Palermo.